buongiorno 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 si sta bene qui sopra si fa fatica ad arrivarci però a tutto non so perché voglio farvi vedere una cosa la vedete questa è la mia banana che ho consumato poco fa guardate dove la ripongo non la getto io non getto le banane e rifiuti sulla strada la strada di tutti rispettatela rispettate gli altri rispettate la natura e rispetterete anche voi stessi non siete nulla senza gli altri voglio farvi ascoltare un po di pace e farvi vedere il panorama e qui su da quassù il panorama è unico meraviglioso stantina vi ho fatto vedere anche le mie amiche mucche di nuovo erano riunite tutte insieme ma questo è quello importante mantenere il contatto con la natura l'uomo senza natura è nulla è nulla è nulla sarebbe la negazione se stesse perché noi facciamo parte della natura quindi io rido amaramente quando vedo i piromani con quelli che abbandonano rifiuti quelli che fanno del male alla natura in ogni modo quelli che inquinano sono il peggio del peggio umano vabbè ragazzi io vi saluto insomma mi si raffredda la muscolatura ciao ciao buona giornata come mi augurato il prete di questo santuario poco fa ciao ciao